Sono molto felice perché approdare una piazza così importante per me può essere veramente un punto di partenza per migliorarmi e magari giocarmi a riscatto che sarebbe un sogno. Sarà molto dura ambientarmi perché i carichi di lavoro mi hanno detto che sono molto molto pesanti però penso che il gruppo mi darà una mano e riusciremo a fare bene anche quest'anno sicuramente. Sono un ragazzo che ha cresciuto a pane e calcio è sempre stata la mia passione oggi arrivare qui è un traguardo per me importantissimo perché è una squadra che comunque fa la Champions League è un sogno che avevo da bambino e come giocatore sono un giocatore molto generoso cerco di correre molto per aiutare i miei compagni per recuperare palloni e il gol ancora mi manca e speriamo che quest'anno sia un'annata buona. Di mettermi a disposizione subito con i compagni e col mister e cercare di riuscire a ritagliare il mio spazio è il primo gol in Serie A e speriamo di farlo con questa maglia. Conosco Gollini, l'ho visto prima, l'ho incrociato prima mentre pranzava e penso che sia un gruppo mi hanno detto che è un bel gruppo per riuscire a lavorare bene e sicuramente mi integrerò benissimo. Sono squadre importanti perché poi le coppe sono difficili da giocare, sarà un'emozione unica e speriamo di riuscire a fare bene anche quest'anno. Un saluto a tutti, Forza Atalanta e speriamo di rivedervi presto allo stadio perché da avversario è sempre stata una curva difficile da affrontare e spero di riavervi presto al campo.